Gli uomini di gomma. Giovannino per di giorno, viaggiando in cavallo ad ondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico, insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano anche meglio di un pallone. Se cadevano si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo nel muro non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa che ci avete? Aria, naturalmente. E come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire, il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello.